Direzione New York con i paparazzi Tanti schiamo E adesso vi faccio vedere Aspettate, aspettate, aspettate Eccoli Stiamo andando a New York e Chiara è stata selezionata per dei controlli aggiuntivi Visto che non lo ringrazio mai il tuo fidanzato Guarda che sembri Puff Daddy Cosa devi dire al tuo fidanzato Siamo in partenza per New York E siccome tutti vanno la Fashion Week L'intero aereo è composto da persone Fashion Sono tutti fashion Ma perché? Ho finito di essere sul jet privato E' un gioia Ce la faccio in cede ragazzi Cosa è la famiglia? Cosa è la famiglia? Cosa è la famiglia? Stilata finita Ho visto ogni ediz Che mi ha guardato e anche salutato Ciao Gigi Chiamami Gigi Cosa è la famiglia? Cosa è la famiglia? Cosa è la famiglia? Siamo andati a Times Square a fare delle foto, io stavo salendo sulla macchina e il nostro autista è partito con la portiera aperta in mezzo alla strada e con la portiera aperta stava prendendo una tipa. Ha preso una tipa, però. È incredibile. Ti parla anche da solo, comunque. Sei divertita, amore? Molto. Buongiorno, questo è l'ordine di Camera Nostra. Amore, che posso? Devo dire che... Tutto lo che gli resta, stavo guardando in cima e fanno, ma chi è Oscar dell'Arenata? Chi è Oscar dell'Arenata? Non so chi è. Siamo qui con il buon Timur che ci sta scattando le foto. Mitico Timur. Ferragni si appropria della strada. Buona. Niente, non l'ho ancora mangiata io, deve già rompere le balle, dai. Ovviamente non potevano mancare un po' di acquisti. Però... Eccola, eccola, eccola... Eccola... Eccola, eccola.